Buongiorno dal TG Flash, accoltellamento questa mattina a Sanremo in Via della Pace, a poca distanza dalla concattedrale di San Siro. Secondo i primi rilievi, sembra che un argentino abbia aggredito la propria fidanzata, afferendola in diverse parti del corpo. La donna, una 25enne ucraina, è stata condotta al pronto soccorso in condizioni comunque non gravi. L'uomo è stato invece arrestato dagli agenti del commissariato matuziano che stanno svolgendo le indagini. E proseguono al Parco Roia di Ventimiglia i lavori per l'allestimento del centro transitorio d'accoglienza per migranti che dovrebbe diventare operativo entro il fine settimana. La struttura non riuscirà inizialmente ad ospitare tutti gli stranieri ormai presenti nella città di confine, ma si lavora per un progressivo aumento delle unità abitative. Abbiamo fatto il punto della situazione con il prefetto di Imperia, Silvana Tizzano. Sentiamo. Sicuramente è una stagione calda, come l'ho stata quella dell'anno scorsa. È un caldo diverso, ma sempre calda. La situazione dei migranti è una situazione sulla quale si lavora tantissimo. Siamo quasi ormai agli ultimi minuti per l'apertura del centro migranti che stiamo allestendo al Parco Roia, che vedrà la possibilità di sistemare buona parte delle persone che in questo momento afferiscono alla zona delle gianchette. Naturalmente è una fattispecie in progress perché i numeri sono abbastanza alti e quindi noi un po' man mano, via via, cercheremo di adeguare sempre di più la nostra struttura a quelle che sono le esigenze. L'obiettivo del campo, però, come ho detto più volte, non è quello di farne un momento distanziale per i migranti, ma un momento in cui un luogo dove ai migranti viene offerto attraverso la presenza di mediatori che abbiamo già messo a disposizione, abbiamo già individuato, indicazioni sui percorsi che possono fare per poter legalmente, ma anche in maniera idignotosa per loro, rimanere sul nostro territorio. E quindi un messaggio di distensione anche agli abitanti, insomma, tutto questo è per loro. Esattamente. Io devo dire, l'ho riconosciuto in tante occasioni, che da parte della comunità di Ventimiglia c'è stata sempre una grandissima tolleranza, voi l'anno scorso nella zona dei Balzirossi e della stazione e quest'anno nella zona delle Gianchette. Però ho anche detto che purtroppo Ventimiglia paga lo scotto di essere una città di frontiera e come altre città di frontiera in questo momento non riescono a rimanere totalmente esenti da un fenomeno che, come tutti sanno, ha delle proporzioni sicuramente non di basso livello. Devo dire che c'è comunque tantissima disponibilità, abbiamo anche registrato tanti casi di vera e propria solidarietà nei confronti di queste collettività, di questi migranti e di questo devo dare atto. Naturalmente da parte nostra c'è tutto l'interesse e lo sforzo per cercare di rendere sempre minore il loro disagio. Molti gli interventi ieri per il forte vento con raffiche fino a 40 nodi che ha battuto tutta la Liguria. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per intonaci e alberi pericolanti. Ad Armanditaggia due piante sono cadute sulle lungomare e in via stazione. A Genova altri problemi per le condizioni del mare, con la Guardia Costiera che è intervenuta per salvare un cinquantenne a Genova Quinto ed un trentacinquenne di origini marocchine a Voltri. Quest'ultimo è stato rianimato a Riva e poi ricoverato in rianimazione in condizioni molto critiche. In porto, infine, un traghetto in fase di disormeggio ha urtato un'altra imbarcazione. E' grande successo ieri sera ad Imperia per la cena in bianco, andata in scena in via dell'ospedale. L'iniziativa è stata organizzata dal CIV di Oneglia. Vediamo. La prima edizione siamo emozionatissimi chiaramente perché ci credevamo ma non ci aspettavamo mai più una risposta del genere da parte sia dei cittadini di Imperia che anche dei turisti perché tanti sono venuti apposta per partecipare. E quindi siamo felicissimi perché dovremmo essere quasi alla presenza di 500 persone. Quindi li abbiamo tutti qui nella via insieme a noi e siamo veramente al settimo cielo. Contiamo il prossimo anno di ripeterla e magari di ingrandirla anche un pochettino perché è una cosa che piace, che rende uniti e che fa apprezzare anche Imperia. Quindi è quello che noi vogliamo tantissimo. La condivisione, l'amicizia, l'allegria. Insomma, ci sono tutte stasera. Io credo che da quello che dicono i numeri, da quello che dicono gli imperiesi, tutte le persone che hanno dato modo di fare questa prima cena in bianco in questa via cittadina di via dell'ospedale a Oneglia, credo che si possa dire che è un grande trionfo, una grande soddisfazione da parte di tutti i commercianti e da tutte le persone che hanno preso parte. Un grazie particolare chiaramente a tutti i commercianti, al CIVI di Oneglia con la quale c'è stata una grande collaborazione, è stata inserita nel calendario degli eventi estivi. Io chiaramente ho partecipato con grande stupore e anche con grande entusiasmo perché era la prima volta che si faceva, pertanto devo dire che la risposta della città è arrivata in maniera positiva, in maniera forte. Mi auguro che sia una esperienza da ripetere e ad ampliare sicuramente anche l'anno prossimo. Mi auguro che sia una esperienza da ripetere e ad ampliare e ad ampliare e ad ampliare e ad ampliare e ad ampliare. Nuovi controlli a Sanremo da parte della Polizia Municipale volti a contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. I pattugliamenti degli agenti hanno portato a tre sequestri per un totale di 150 articoli contraffatti. Fermato un venditore abusivo di origini senegalese che è stato denunciato. Dal 16 luglio al 31 agosto lo splendido Borgo Medioevale di Cervo torna ad ospitare il Festival Internazionale di Musica da Camera giunto alla sua 53esima edizione. Molti i grandi nomi presenti quest'anno e anche le novità, come ci ha spiegato il consigliere comunale e direttore artistico dell'evento Walter Norzi. Walter Norzi è consigliere comunale delegato al Festival di Cervo, del Comune di Cervo, ma io dico, mi permetto di dire anche soprattutto l'anima di questo festival, il direttore artistico è colui che ha selezionato e ha cercato artisti veramente di grande fama. Un calendario che colpisce per la vastità intanto dal 16 luglio al 31 agosto e anche per i nomi. In un momento di difficoltà non è uno scherzo riuscire a fare un calendario di questo tipo, Norzi. Questa è un'annata direi eccezionale. Erano anni che non c'era un programma così importante e così ricco. Non solo da un punto di vista quantitativo ma soprattutto qualitativo. perché ogni appuntamento è stato selezionato con cura per cercare di cogliere quelle che sono eventuali sensibilità di un pubblico sempre diverso e sempre di passaggio oramai in questo periodo turistico da metà di luglio fino alla fine di agosto. E quindi in effetti noi riusciamo a cogliere tre formati diversi di questo festival, dove ci sono i nomi come vengono normalmente chiamati o i top player se vogliamo usare un gergo calcistico, dei giovani che hanno vinto i premi più importanti al mondo e che per l'importanza del nostro festival vengono a Cerbo e poi le arti collegate come può essere il jazz, il teatro, la musica etnica, perché avremo anche differenti location dove verranno effettuati i concerti. Quindi la classica piazza dei Corallini piuttosto che l'oratorio romanico del 1200 di Santa Caterina, piuttosto che il parco naturale del Ciappà. Cerchiamo di dare quindi a ogni cittadino, a ogni turista una possibilità nuova e diversa di capire quelle che sono le nuove arti che si muovono in questo festival. E poi attenzione perché giustamente ha sottolineato il teatro, ma teatro non solo, ad esempio con un quintetto del Carlo Felice, che è una cosa sicuramente spettacolare, da Genova in collaborazione con la regione, ma anche il teatro, proprio teatro vero, sempre con musica dal vivo ma con una piassa teatrale. Esattamente, è una novità perché è la prima volta che viene fatta una serata di teatro nell'ambito del festival. Ovviamente teatro in questo caso, posso anche dirlo, di qualità perché sarà il direttore del Teatro Stabile di Torino con il suo gruppo che verrà a fare una rappresentazione su un programma che è sulla Maddalena con musiche, parole, immagini che sono di una qualità e di un livello altissimo. Si comincia il 16 luglio, un calendario veramente da seguire, appuntamenti da seguire con grande attenzione per i nomi, per ciò che offrono. Apriamo il 16 di luglio con un grandissimo del violoncello italiano, Enrico Dindo, l'unico italiano ad aver vinto il premio Rostropovice di Parigi, quindi un'eccellenza nel panorama internazionale. Successivamente Stefano Bollani, che tutti quanti conosciamo, ma sempre a un livello altissimo. Tutto ciò, tutto quello che è stato fatto in questo festival, vorrei dire, è stato fatto in grandissima armonia e collaborazione con tutti gli enti che ci danno una mano. Oltre a quelli istituzionali, da quest'anno con noi collaborano, ad esempio, il FAI per la delegazione della Liguria, preziosissima e pregiatissima organizzazione che collabora con noi. I Lions hanno rafforzato la collaborazione che è già abituale con Cervo, tra l'altro hanno fatto anche una donazione con il Parco Giochi dei Bambini di Cervo. Il Consorzio Turistico Riviera dei Fiori, che oltre a darci delle disponibilità di ospitalità per i musicisti, si diffonde capillarmente in tutta la provincia, nonché a Nizza, nell'aeroporto di Nizza, un punto di informazione importantissimo, la Fratelli Carli che ci stampa tutto il materiale. Ecco, quindi è stato fatto un grosso lavoro anche di organizzazione per cercare di far evolvere questo festival per il futuro, perché il futuro è questo, commercialmente parlando. Questa sera alle ore 21, nella nuova puntata di Punto d'incontro, parleremo di atletica con il saltatore Sanremese Fabrizio Perti, l'eredice da tre medaglia ai campionati italiani master svolti ad Arezzo. Subito dopo andrà in onda uno speciale sul concerto del Coro Mongioie che si è svolto nei giorni scorsi a Calatacuneo ad Imperia. Chiudiamo il TG Flash di oggi con una contro copertina con una nuova puntata della storia sul recupero della chiesetta di Santerim alle pendici del Margueris. Oggi vediamo un'intervista realizzata nel 2003 con Luciano Frassoni dell'associazione Santerim e con l'allora comandante provinciale dei Carabinieri, Vincenzo Costantini. È con grande piacere che incontriamo qua, alla Colle dei Signori, al Rifugio Barbera, il colonnello Costantini. Il colonnello Costantini, per chi non lo sapesse, gira tutta la nostra introterra perché vuole vedere le loro bellezze e la loro importanza. Colonnello Costantini, con grande piacere che oggi lo ho al mio microfono, perché lei mi dica cosa prova visitare il nostro introterra e queste bellissime montagne marittime. A me piace girare nel territorio perché sono convinto che nella terra, e non è solo una metafora, ci sono le radici degli uomini. Gli uomini di queste montagne sono poi gli uomini che si sono affacciati al mare, che sono andati oltre, che hanno scoperto nuovi mondi. Non è ozioso ritornare indietro a pensare a questi uomini e vedere da dove hanno tratto quella linfa che poi li ha portati ad arrivare a scoprire cose nuove. È molto importante, secondo me, tornare indietro. C'è un po' di rammarico perché non è molto abitato adesso questo territorio, questa introterra. Mi piacerebbe vedere e so che molti amministratori locali stanno spingendo per questo, per riconquistare questi territori. Io mi auguro che questo avvenga presto. Io ho una grande soddisfazione averla con me perché un animo di mio padre, anche lui era un carabiniere. E io ho un grande pensiero per mio padre e per quello che ha fatto per noi, che eravamo in tanti, in famiglia, incontrarla qua. È una grandissima soddisfazione, colonel. La ringrazio. Io auguro a voi una buona permanenza e un buon lavoro per quello che state facendo. Un'azione di divulgazione e di presa di conoscenza di queste realtà. Continuate così. Queste montagne, dobbiamo pensare, questo è un passo dove la strada Marenga, la famosa strada del sale, passa di qua dietro e questa è una via di commerci, famose strade del sale che hanno dato, si chiamano strade del sale perché il sale era la cosa più cara che ci potesse essere e queste strade erano anche strade di contrabbando. Se riuscivano a scavalcare, ad esempio passare dal colle del Passo, scavalcavano il colle di tenda e non pagavano i dazzi. Però se non pagavano i dazzi e venivano scoperti, addirittura tagliamo le mani, mettevano in galera. Comunque questa valle qua, la valle dei Maestri, era abitata già dal 1000, era abitata d'estate, si venivano dalla Brig, questi pascoli erano i più privilegiati perché c'era l'erba in pieno agosto, sempre verde, giù era tutto secco e il prete, il prete si davano l'appuntamento alla domenica, qui tutti i pastori delle valli, da Monesi al colle dei Signori, la valle dei Maestri, da Carnino, venivano qua e il prete diceva la messa e c'erano bambini. Durante la settimana addirittura dava lezioni ai bambini, faceva dottrina e faceva la cura delle anime, degli anziani e qui veniva come un paese, qui c'erano centinaia di persone, questi pastori in mezzo ai camosci e alle marmotte vivevano per i famosi cento anni dell'Alpe, famosi cento giorni dell'Alpe, cento anni sarebbero troppo, cento giorni dell'Alpe, venivano e stavano fino a fine di settembre, secondo la stagione perché qualche volta gli prendeva la neve, c'è la famosa leggenda di Santerin che, adesso non sto a raccontarla, comunque era un pastore anche lui che dava consigli a tutti, non era uno sciamano come qualcuno diceva ma era veramente una persona buona, dava consigli, consigliava ai bambini, teneva i bambini e teneva anche le sue pecore, poi c'è la famosa leggenda. Questa è una storia infinita la nostra di questo introterra, del passo Fram al Gal, quello che vogliamo portare avanti noi, ci sono tantissime iniziative anche dal sindaco Giorgio di Ormea, speriamo che questi nostri sogni siano realtà. Certo, noi vogliamo quest'anno già iniziare a pulire dentro la famosa chiesetta che è crollata, è crollata tutta, cerchiamo di ricostruirla mantenendo quello che si può salvare, i muri quasi tutti e stiamo aspettando il permesso dai beni ambientali di Torino che dovrebbe arrivare da un momento all'altro e comunque quest'anno dopo il 20 di agosto facciamo un gruppo di lavoro volontari e incominciamo a pulire, facciamo il passamano perché non si può neanche entrare perché c'è la porta bloccata da un metro di residui del tetto perché era volta, adesso lo ricostruiremo in legno con capriate e quindi ormai un altro anno noi vogliamo questa chiesetta ricostruita.